Ieri ero nel cuore del parco dell'Astromonte, ho incontrato i sindaci, gli agricoltori, i cittadini, i volontari che stanno combattendo contro i criminali che bruciano vita e natura e la regione Calabria oggi interverrà e ritenevo il mio dovere unire Calabria e Sicilia anche nel fronte lotta agli incendi, venendo a portare omaggio ai vigili del fuoco di Messina, ringraziandoli per quello che hanno fatto, come ho già sentito il Presidente Draghi, occorre aumentare in uomini e mezzi, perché non è possibile che ogni estate si ripeta la stessa tragedia, quindi aumentare le pene nei confronti dei criminali che incendiano, però assumere più vigili del fuoco e soprattutto cambiare mezzi perché i canadere e gli elicotteri che volano, a volte volano solo perché fanno dei miracoli e quindi bisogna investire, ci sono questi benedetti fondi europei, questa è prevenzione, tutela dell'ambiente e vita, quindi Calabria e Sicilia unita nella lotta agli incendi e io ho preso il traghetto, spero presto, unite anche da un ponte, che sarebbe un'opera straordinaria a livello mondiale, farebbe risparmiare tanto inquinamento, tanto tempo e porterebbe l'immagine della Sicilia, della Calabria, dell'ingegneria italiana in tutto il mondo, quindi faremo l'impossibile perché con i soldi che l'Europa ci manda si faccia anche questo benedetto ponte che sarebbe un bellissimo signore. Salomini, sul Green Pass, cosa ne avrete? Gli cinesi dovrebbero imporre anche l'ingresso di un'indici pubblico, poi garanti agli avanti venditori, cosa pensi? Io spero che i dati in Sicilia e in tutta Italia da più a settembre siano in miglioramento, come lo spiegabile, i cittadini stanno dimostrando enorme buonsenso rispetto delle regole, si stanno liberamente vaccinando a decine di milioni, quindi io spero che non servano nuovi obblighi, nuovi limiti, nuove chiusure, nuovi divieti, sia in Sicilia che nel resto d'Italia perché siamo nel pieno dell'agosto e spero che questa straordinaria terra accolga tanti e tanti turisti, turisti che pagano, non turisti che sbarcano, come purtroppo mi segnalano anche nelle ultime ore. A Sicilia, se non sarà il vostro candidato, se non sarà il regione, se non sarà il cateno del Lega, nel tanto che non lo faccio? Noi come Lega lavoriamo con gioia e impegno ancora per un anno e poi ne parleremo nel 2022. Di chi si candiderà io penso che la Lega sarà forza trainante, non solo perché ormai in Assemblea regionale con l'ingresso dei nuovi quattro deputati siamo ormai una forza determinante, ma perché io penso che quello che ha fatto la Lega con la Sicilia si moltiplicherà e quindi avere l'ambizione, non una pretesa, ma avere l'ambizione che sia la Lega insieme ovviamente agli alleati del centro-destra perché l'unità del centro-destra è fondamentale per quello che mi riguarda, però a indicare il prossimo Presidente di Regione per me è un obiettivo assolutamente a portata di mano. Io con il Sindaco di Messina messaggio regolarmente sui problemi di Messina, però non abbiamo mai affrontato tematiche regionali, ripeto, ne parleremo nel 2022, adesso lavoriamo. Oggi l'incontra? No, no, oggi ho ritenuto mio piacere, mio dovere portare da ex Ministro dell'Interno dell'Italiano l'onore e il ringraziamento ai Vigili del Fuoco, anche perché ahimè questa è una delle sedi messe peggio e quindi occorre investire per non basta dire grazie ai pompieri, viva i pompieri. Sembrerebbe che la prossima settimana la Sicilia diventerà zona e gianna, cosa si può fare per quanto riguarda gli sbarchi che potrebbero incidere su questo? Il problema è che non si può chiedermi green pass per andare in pizzeria o in spiaggia o in piscina a Messina, a Catania o a Palermo e poi far sbarcare migliaia di persone da paesi dove il vaccino non esiste. Per quello che riguarda l'Afghanistan è incredibile che si perdano altri giorni che i ministri vengano a riferire non immediatamente ma settimana prossima in Parlamento, accogliere in Italia le decine, alcune decine di persone che hanno collaborato con la nostra ambasciata, mi sembra doveroso, però nessuno ci venga a parlare di migliaia o decine di migliaia di afghani da accogliere in Italia, visto che è pessimo. ripeto, noi in Italia abbiamo già accolto e raccolto 35.000 clandestini in questa parte di 2021, quindi gli altri paesi europei facciano il loro, io so che c'è in avvicinamento alla Sicilia una nave che batte bandiera norvegese. Il ministro dell'interno faccia il favore di chiamare in Norvegia perché ognuno si faccia carico delle sue responsabilità. Ripeto, non si possono limitare gli spostamenti, la vita e il turismo dei siciliani e nello stesso tempo far sbarcare migliaia di persone senza nessun controllo.